Bella a tutti ragazzi io sono Adria e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online come vedete oggi sempre a tema natalizio infatti siamo ancora vestiti con il completo di Natale e fuori c'è ancora la neve bene questo mi piace perché comunque ci mette tutto il vibe e ovviamente buon Santo Stefano a tutti oggi è Santo Stefano mi raccomando passatelo bene con le vostre famiglie è veramente importante e per quanto riguarda noi oggi andremo a modificare la Baller ST che è praticamente il veicolo che ci hanno dato gratis in GTA Online ve lo faccio vedere subito come lo potete ottenere gratis se ancora non l'avete preso basta che venite nell'agenda di Motorsport come vedete automaticamente sarà gratuito basta che ci premiamo sopra lo acquistiamo e al costo di 0 dollari sarà depositato all'interno di un nostro garage quindi tra virgolette l'unico requisito è avere un garage dove poter depositare questo veicolo e se volete vedere l'acquisto e le modifiche della Overflood Zeno che è veramente un'auto super andatevi a vedere il video dell'altro ieri che ho acquistato e modificato completamente quest'auto quindi magari prima che spendete quei 2.820.000 dollari più tutte le modifiche andatevi a vedere il video perché c'è una cosa veramente molto particolare per quanto riguarda questo veicolo ossia che vola poi insomma andate a vedere voi e capirete perché vi ho detto questa cosa per quanto riguarda me la Baller già l'ho acquistata quindi possiamo andare direttamente nel garage della nostra agenzia e prima di andare nel garage dell'agenzia mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video e le prossime live qui su youtube inoltre mi raccomando se ancora non l'avete fatto lasciate un like veramente importante cerchiamo di arrivare superare i 500 like per questo video ve ne sarei veramente molto grado perché mi aiutate veramente tantissimo intanto lì dietro di me c'è un piccolo spoiler della Overflood Zeno raga per chi di voi ancora non avesse visto il video ma vi consiglio comunque di andarlo a vedere perché è un'auto veramente top inoltre fatemi sapere qua sotto nei commenti come è andato il vostro a Natale se siete stati bene mi auguro ovviamente di sì che abbiate mangiato abbastanza che siete stati con la vostra famiglia e soprattutto che avete avuto un sacco di fortuna nei giochi per quanto riguarda me vi ringrazio veramente a tutti per aver visto il video di ieri e soprattutto per avermi fatto gli auguri ci tenevo personalmente a ringraziarvi tutti quanti qui in questo video quindi grazie mille per gli auguri di Natale e vi auguro di nuovo un buon santo Stefano bene detto questo come vedete non so perché ma ho dato per scontato che avevo messo la baller st qui dentro e invece adesso mi sono ricordato che mi sa l'ho messa nell'ufficio quindi devo uscire fuori chiamare la baller e poi rientrare qua dentro l'auto la modifichiamo qua dentro perché all'interno di quel garage abbiamo tutta l'officina per poter modificare le auto quindi non c'è bisogno di andare allo santos custom come di consueto intanto raccogliamo un po di neve perché prima di chiamare l'auto devo fare questa cosa ossia lanciare le palle di neve alla gente vediamo se lo faccio arrabbiare o se scappa no vabbè non ci credo raga no non ci credo ma seriamente ce l'ho ucciso con le palle di neve ma ma gioco gta ma cosa tre palle di neve è morto ma com'è possibile dai no raga questa cosa non me l'aspettavo c'è una palla di neve che uccide la gente ma seriamente guardate come fugge dalle palle di neve fai bene perché queste sono letali fatto ciò chiamiamo il meccanico e ci facciamo portare la baller st proprio qui davanti così entriamo subito nel garage e la modifichiamo bene siamo entrati qua come vedete questa è l'auto non modificata quindi senza alcuna modifica applicata che comunque devo dire si presenta veramente molto bene molto cattiva come auto e tra l'altro fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la prossima auto di cui volete vedere le modifiche se volete c'è la ignus che praticamente ancora non l'ho acquistata che è l'altra auto nuova che hanno aggiunto tramite questo dlc che se volete posso acquistare e modificare completamente fatemelo sapere nei commenti se vi interessa ovviamente faremo anche il test della velocità eccetera eccetera così vediamo anche quello a livello di veicolo come si comporta eccetera eccetera se sarà la supercar più veloce del gioco dubito ma comunque vedremo ok per modificare premiamo la freccia a destra e come vedete già possiamo modificare tutto quanto mettiamo l'armatura al 100% con questo veicolo voglio fare un super veicolo blindato quindi dobbiamo fare una bestia di veicolo veramente freni da gara non migliora di tanto però qualcosina migliora e motori mettiamo il potenziamento a livello 4 poi tutte le cose estetiche le andiamo a vedere dopo come paraulti marmitte griglie eccetera eccetera qui possiamo modificare griglie cofani le luci intanto facciamo le cose semplici fare luci allo xeno kit neon lo facciamo dopo le livree le livree vediamole subito va così mi regolo anche per quanto riguarda le altre cose allora abbiamo delle livree intere bene questa molto carina devo dire mi piace ci sta bene anche questa molto particolare raga tipo questa ok si cambia solo un po il colore mimetica autunno guardate che roba è questa no vabbè un po visto no oddio bellissima guardate questa oh mio dio questa è tipo sembra uscita da un cartone animato tipo ghostbuster questa per la regina non per il re la bandiera della uk per la regina cavolo bellissima a queste queste qua sono le livree che ci hanno regalato per le festività raga quindi strisce festive ok abbiamo visto com'è decente ma non so se farà al caso nostro quella effettivamente molto bella è questa che mi piace c'è molto cartone animato è per carità però almeno è qualcosa di differente poi vedremo dopo bene cosa faremo per quanto riguarda gli specchietti speriamo che anche qua non c'è glitch dell'overflow de zeno tettucci minigonne spoiler striscia parasole sospensioni ok sospensioni le mettiamo da gara trasmissione da gara così almeno la modifichiamo il turbo ovviamente lo mettiamo finestrini limousine partiamo subito con le ruote mettiamo cerchioni standard andiamo vediamo un po quale mettiamo queste qua perfetto che mi piacciono sempre tantissimo colore cerchione per il momento lo lasciamo così gomme personalizzate gomme antiproiettile perfetto così almeno non ce le fanno fuori e siccome questo è un suv e deve essere un suv molto minaccioso facciamo tutto nero raga cioè peggio della overflow de che abbiamo modificato l'altra volta che abbiamo fatto nera questa deve essere proprio tutta nera questa macchina quindi mettiamo nero carbonio non mettiamo proprio nero che ancora più cattivo allora io direi partiamo dagli spoiler vediamo gli spoiler che ci sono e soprattutto dove cambia credo qua dietro ok sono questi gli spoiler raga pensavo qualcosa di meglio ma a quanto pare sono solo questi qua vabbè io direi di prendere l'alettone discreto in carbonio anche perché quello che si estende un pochino di più ed effettivamente mi piace abbastanza quindi alettone discreto in carbonio minigone abbiamo da gara o da strada cambia che c'è la piccola pinna lì in basso a destra quindi prendiamo queste da strada tettucci vediamo che tettucci ci abbiamo generatore di parte che non vedo niente raga vi giuro è troppo luminoso qua dentro allora per quanto riguarda i tettucci abbiamo il generatore di vortice singolo che praticamente sarebbe quella sorta di cosa nera lì dietro che hanno aggiunto poi abbiamo quello doppio che però ha il colore della macchina quello di plastica in carbonio liscio liscio in carbonio o standard in carbonio il tettuccio in carbonio tecnicamente dovrebbe alleggerire la macchina quindi dovrebbe migliorare le prestazioni ed effettivamente ci starebbe pure bene però mi piaceva di più il generatore di vortici e prendiamo questo qui doppio in carbonio poi gabbia di sicurezza la mettiamo anche imbottita perché noi vogliamo la massima sicurezza e il massimo comfort all'interno del nostro super suv verniciature abbiamo detto appunto colore principale anziché opaco andiamo su metallico nero questa volta colore secondario e cerchiamo di capire innanzitutto quale sarebbe sto colore secondario perché effettivamente io qua non vedo colori secondari su quest'auto vabbè nel dubbio teniamo il nero targhe mettiamo giallo su nero come classico che su questo suv nero ci sta veramente benissimo questa targa poi specchietti come vi dicevo c'è verniciato oppure standard teniamo quelli standard tanto non cambia niente di che e per quanto riguarda le livree ve l'ho fatte già vedere prima però io direi qua ci starebbe veramente molto bene anzi ci sta molto bene questa livrea qua rossa che va a dare un bel contrasto quindi acquistiamo questa striscia rossa qua sotto che ci sta veramente molto bene poi kit neon schema neon ovviamente in tutte le parti colore neon anche questo rosso poi vediamo i cofani allora abbiamo con striscia in carbonio con striscia in carbonio liscia con striscia liscia e prese d'aria liscio con prese d'aria verniciato aggressivo liscio verniciato e liscio in carbonio allora onestamente queste con le prese d'aria mi sembrano veramente ottimi anche se pure questo standard effettivamente non mi dispiace cioè mi piace abbastanza come stile infatti mi sa io tengo questo standard più che altro perché ha le prese d'aria lì davanti ed è l'unico ad avere le prese d'aria lì davanti per cui tengo quello poi griglia vediamo che griglie abbiamo allora abbiamo la griglia standard personalizzato che fa veramente schifo con pompa con logo piccolo con logo grande o con doppio ventole beh a me non piace tanto che si veda la griglia così preferisco così standard quindi teniamo la griglia standard marmitte vediamo un po cosa abbiamo allora marmitta standard che è molto carina poi small bore doppie large bore laterali squadrate molto belle doppie medie punta in titanio doppie lucide medie singole con punta in titanio large bore laterali doppie punta in titanio ok allora tra tutte quelle che ho visto quelle che mi piacciono di più sono queste qua con la punta in titanio altrimenti terrei queste standard però mi prendo queste qua doppie medie con punta in titanio poi paraurti vediamo subito paraurti posteriore splitter in plastica splitter in carbonio splitter da gara in plastica o splitter da gara in carbonio e prendiamo questo in carbonio bene che ci sta decisamente molto bene poi paraurti posteriore verniciato oppure in carbonio io direi che verniciato probabilmente ci sta meglio io direi che quello in carbonio ci sta bene e ce lo teniamo bene raga per quanto riguarda le modifiche di quest'auto sono terminate qua in realtà non ci sono tantissime modifiche ma direi che comunque l'abbiamo fatta molto molto meglio rispetto a come era prima a me piace veramente molto adesso andiamo a provare anche le performance qua fuori intanto come vedete in basso a sinistra agenzia soluzioni per bip i miei guadagni giornalieri dell'agenzia sono stati aggiunti alla cassa forte siamo a 9500 dollari il mio guadagno attualmente di 1500 dollari al giorno appena faccio un'altra due missioni dovrebbe salire 2000 vi ricordo che ho spiegato nel video dove piego come guadagnare soldi tramite l'agenzia come fare soldi con l'agenzia e quindi come funziona anche la cassa forte che è veramente ottima per fare soldi senza fare niente ok andiamoci a fare un giro raga e vediamo com'è questo sub bene come vi dicevo si presenta veramente molto molto bene mi piace veramente un sacco molto cattivo e vediamo anche a livello di performance com'è questo sub se è veloce oppure no e devo dire già a livello di accelerazione abbastanza buono considerate che comunque un sub quindi per essere un sub molto molto bene anche a livello di velocità massima è ottimo cerchiamo di vedere anche la guidabilità una buona tenuta non ovviamente massima e vediamo se l'abbiamo distrutto oppure se integro ma direi che l'armatura ha fatto bene il suo lavoro come vedete comunque si controlla abbastanza bene sbanda sì un pochino però comunque considerate che per essere un sub ripeto si controlla bene una buona guidabilità e quindi onestamente ve lo consiglio per essere un veicolo gratis se avete i soldi per modificarlo e ve lo modificate al massimo ci spendete magari quel mezzo milione non lo so quanto speso penso mezzo milione all'incirca e lo rendete veramente un ottimo sub che potete tranquillamente usare per fare delle missioni o comunque per spostarvi in gta online con più persone se avete un gruppo di amici e vi volete spostare con un veicolo cazzuto bene raga detto questo io spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti come avete modificato l'auto se l'avete già modificata e soprattutto se l'avete presa mi raccomando prendetela perché è gratis approfittatene adesso fino a giovedì avete tempo dopodiché non sarà più gratuita ma la dovete acquistare a prezzo pieno quindi approfittatene è veramente ottima ve la consiglio e spendeteci anche un po di soldi sulle modifiche tanto ve l'hanno dato gratis e vi tenete un bel SUV nel garage detto questo di nuovo vi auguro un buon santo stefano a tutti da adri è tutto un salutone bella